E' stato un pittore moderno, è stato così richiesto da farne una sorta di star. Ci dà l'idea di cosa significa l'infinito del gesto, appartiene a un qualcosa di molto più ampio rispetto a noi. E' anche un grande inventore di iconografie. In Perugino, la pittura è aria e danza. Con Perugino, il paesaggio diventa protagonista, non più semplice sfondo. L'eredità più grande è una creazione di un universo in piena armonia. Un mondo della grazia in cui nulla turba e nulla è turbato. Incanta sempre per la chiarezza della composizione, per la qualità della pittura. E' sorprendente, è nuovo, è stimolante. Pietro Vannucci, il Perugino, ci appare oggi libero da ogni macchia, in piena luce. Il mondo, l'universo appare divino. Ogni tristezza rientra nell'armonia generale. Ogni malinconia, nella pace. Ehi, ovsti e lo spriamo per l'armonia generale.